Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella seconda puntata della serie italiana. Oggi siamo qui con... Stai mai giocato. Poi c'è Elia, che ruba il saluto a Samu. Allora, come vedete abbiamo attaccato le falciatrici per andare a comprare il campo numero... Beh, sì, vabbè. Ho comprato il campo numero 27 che mi ero dimenticato di prendere un campo d'erba, dato che ci tornerebbe utile. Ho citato i soldi... Poi fai una domanda? Sì, sì, ma... Allora, io sono chiamato una persona con il telefono portatile, no? Il telefono portatile? Eh, il telefono portatile! Ma che cazzo è? Il cordless, come cazzo lo chiami tu. Ma che cazzo è? No? Poi? Probabilmente è maleato la connessione. Ah, non lo so come è stato fatto. Simona, trepito, vero? Sì, trepito io, sì. Fammi boccare perché... Noi ci mi piangi. Sì, mi piangi, sì, eh. Quando stai per entrare, Simo me lo dici che metto in pausa. Sì. Dì, ti parla, ehm... Non ti mangia nessuno. E' già un microfono modato, ma è stato smoglio ogni due secondi. Dio secondi. Amore che è stato molto bebbia, trepito io. No, no, frena. No, da boccati, non è bebbia. Oh, allora, posso do. Pausa. Pausa. Pausa, tutto bloccato. Oh, eh no. Ma perché ti muovi il microfono ogni due secondi? A posto. C'ho la cacciara. Ma fiammati. La cacciara? Sì. Allora, dopo questi minceagenesi come stamburrini. Eh, punto, ingia cosa? Sì, ma ecco, vatturo cangello che ciupito non ci passa ma ancora te bella lama. Docca a... No, ma voglio vedere, voglio vedere come fai attaccare la lama. Ahimeno, la cosa che stai sentita. More di... Tanto, te. De prima non ha potuto attaccare... Eh, quando attaccavi? Io se... Ero io, chiamavo Luferra. Terunguli, no? No, 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 no. Pellutina. Arrabri il cangello. Che io, con quattro, mi hanno già passato. Mi devi un po' svelto perché te li vuoi le palle. Porca trota. Oh, bravo. Oh, muori, Dimo. Ma voglio vedere. C'ho fatto. Eh, dai, ma... E' già staccato l'un... 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 Come fai? Dai, più forte, L'un... L'un... Allora... Eh, dov'è il mio trattore? Qua. Allora, ragazzi, ho preso l'unico campo... Che mi ispirava perché per andarci c'è da fare tre chilometri di strada nel bosco, come vedete. E ovviamente i miei gusti sono molto ricercati dentro i boschi. E quindi mi immagino già quando ci sarà da portare i carrelloni di valle. E qui, fammi tre biare che mi... che mi... che mi dirà le varme vietole. Eh? Le varme vietole? Ma, Samu, io non ti vorrei dire niente. Non ti vorrei dire niente. Eh, però sai che le valle sono rotonde. Sì. A posto, basta. Se lo sai tu, che se hai già pronte una quarantina di bestemmie, sei a posto. No, no, già un'altra sto sviluppando una tecnica. Sì, sì, sviluppo qua quello che ti fa. Eh, delle porche madonna. Sì. 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 No. Perché avete queste tecniche? Stasera mi stacco appena di andare di spare cazzare, capito? Eh, eh, così che ti vogliamo, Simo. Vai. Vai io in nord. Nando può essere... che vado io là, sto denogio. Che capace. Però mi stavo calmo. Eh, no. Che, che dopo io gli roppo le palle finge del campo, hai capito? Tu non ti regoli Ecco, sarei stato congimato questo Ma che fa, li congimiamo la prossima volta Tanto buttiamo sotto quella cioppa del stroco congima e via C'era io Allora, posto Qua siamo arrivati Allora, tutto è forte Chi? Eh, no, nardo, nardo è forte Certo Martedì, martedì, no? Leve, ti devo scarcare Vabbè, te lo dico dopo, va Che è un caso qui Non è caso Ti saluta con quella maletta birba, esa Birba Birba, no? Più o meno lo so Per un batte capì che... Eh, birba, birba No, ne birbi Io so capito, sono una cosa Per testi a farlo video, meglio che non lo dico Eh... E io invece vorrei capire perché non mi fa sfacciare in questo punto V Questa una cosa Questa è un caso Anche Mediterranean Pellice Questa è f4 Ma poi ci avrei mangi di minuto di totale Questa è un caso Google Questo c'è un caso Per questo prendere vabbè non lo faccio mi sta profitto e rimedio si cambia quando scorre ma perchè sta falciatrice handicappata la fitta grossa la fitta grossa ogni piano chi 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 me la fa me gulando ma io questa eh il culo io però capito ma che per me giusto falciatrice dai me ne sta con la testa ma non ci funziona è rotta è rotta ma sopra no adesso è giusto l'ultimo tolterra ma non farà e' no ma io te la sterzavo lei andava dritta boh non c'è l'uomo al cappovergare quando la fatti di resistenza ma è quella un po' difficile quella che puoi regolare l'angolo di rotura eh eh proprio quella io l'ho girata lei andava dritta boh slitta miiii ho preso un campo qua che grande quanto boh se sei seccata e lei sa muoè ma lei no eh ti sei stato fortunato io 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 oggi sei stato su un posto c'hanno venti piante tutte baccate tutte tutte baccate ma come fa? eh 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 chi ha pallamose che fa la riforma via eh come fai? oh ma ha grepato li li fusti inerti un bar ha grepato scocchiato la bella eh 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 meno 10 e lì hai fin la palla vabbè romano vabbè 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 venghi a far giacquale lo grano si separato e parti si si potrà si può cioè c'è la mod però non non mi sembra il caso botti via un tracco di granella ma l'ubercavo sta dentro casa che non beve secondo me sta il raiotene per me sta il rumen venghi non mica si chiama simone le 8 e 3 quarti eh le 8 e 3 quarti gli sta si può bombardare qui lo capito simone ma c'è tantissimo fuso orario da me a te ok si ma io c'è 8 minuti di fuso orario beh le 8 e 3 quarti da me sono le 8 e 37 no io parlo di farming eh ah eh che ci siamo quasi però vabbè 12 ore di differenza eh più o meno siamo lì dai ah come orario ma andiamo dai sicuro c'era di essere io sono io piccolo eh ahahah che andò si andò eh e andò andò Antonio un po' di giorni fa no? andò un po' di giorni fa ok, vuole molto ciocchio buona notte andò stava andando no, stava andando andando in dentro adesso vediamo per stermiare Simo quando siete finiti posso cominciare a parlare eh, vai, vai perché dell'altro giorno? vabbè, quello è stato un caso un caso che che caso non esiste? eh è andato che si è scortato la dangela sopra il l'ucomo, no? la droga e si è oh, si è scortato la dangela? no, stava, stava riuscì o peggio di un bumi d'oro malta, malta poi ci siamo comportati una madre io mi sono scappotato da vorrei però non... che voglio fare? ti sei scappotato ti ero tu? no, hai detto ma quella? ma in sotto sopra si muove quella malta la droga eh? sotto sopra eri da ridere mi è scappotato era come quello, no? gli è te io, no? si ferma si ferma si ferma chi li sta a fare con tu? eh, c'è una cliente e gli ho portata una frattina invece di lì a p**** anche vediamo tutto quando non lo guardo niente quindi lei le ia p con eh doveva portato a me prendo ad chiede biaia e l'acquale per diandavano addorando no, è passato quando quando ocazona andò andò qui lui è morto e parco andò a fare un cazzo là un cazzo ah se te la porto a un dito no? porca puttana non gli c'è non gli c'è poco ma basta eh ma basta io ho sparo le puttana simon ma spintare tra l'ora lo spenderò di no spintare se c'è anche più poco non c'è tempo adesso devi portare no non c'è tempo vengo ecco lo jacob piccio fortuna, faccio bestemmio in giangelesi perché mi ammazza gruppi ancora mai per farvi prima andò andò do forn che te la trasmone quadri di maio che campo e dopo quello batta gli altri c'è da aspettare che crescano però io ho fatto un giverto mi sono messo a falciare quindi se volete potete venire e ci vedo a volte alia a me non mi frega ecco non posso rapri capo se devo mettere la tua richiesta e infatti si dice che se la vergara allora e quindi vai avanti campo stai arreto io tutta sinistra però devi andare a prenderlo sto volta pieno po ok il regginatore lo abbiamo saluto che sei esperto di terra no che non lo abbiamo no che non lo sai no che non lo abbiamo ok ci siamo mangiati già fuori tutti i soldi abbiamo 4.000 euro va va e c'è un po' le palle del paio che c'è stato da passare questo campo ecco no non non lo so no aspetta che poi quello lì va a falciare va a trebiette ehm arato 2.1 il composto ci sta su sta mappa no c'è in basso quello qua cosa c'è che cazzo che senti così ma prima mi sembrava di sì sono postato da qualche parte mi sembrava ci fosse sai non vorrei dire le cose in giangianese però che porca non te giude eh ehm 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 devo il magnaio buon appetito preciso ehm ah no era questo che avevo visto ma non è composto non ho fatto ma si che il composto ti taglio io allora come se c'è poca ecco ma si qua è per il composto non può essere quindi da qualche parte un composto non vende non vende non so quale fa non vende non vende ma per quello che abbiamo i punti posizionabili non è un problema dove si scarga allora l'u-lu-lu l'u-lu 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 poi va mangiare quindi niente può far manova al cuore andate gli altri fammi un po' più alla zona quanto ero c'hai già tu? quanto ero c'hai già? ehm 6x6 36 minuti c'è il centro 0.6 neppure certo, ma fammi capire ecco no stavo anche no ma vanno non c'è allora qua non c'è sta no? ma vanno qua qua le vacche non c'è sta no? no non c'è sta allora sta merda del cazzo per eh sarai tu Simo quando vai al gabinetto eh la madonna che hai già stato della Huffberg man? eh se cago qui tanto posso strabbiare i cambi eh no 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 c e dai ieri sinceramente un po' a me manca già la bergman eh si mangiamo ma lì si leggava tantissimo si beh non 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 il lag mi manca ehm mi manca il fatto di andare a raccogliere spazzatura liquame ehm si era veramente ehm guadagnanza con esordi facendo praticamente niente c'era tanto da fare potevamo sempre spargere liquame che è una cosa che mi piace mettere liquame a me no stai sempre in mezzo a mezzo pesa che dai ne ho fatto tutti i giorni nella realtà ehm ehm io c'è fariavo delle imporcire poi ho detto basta perchè lunedì mattina alle 4 non si può quando fa di cavo ma io ho vado le cucini sto stacolando ben i miei magliette oh di me lo son collato un paletto dello stop me lo son collato quello che mi diceva prima ho chiappato quello co la freccia dopo ho sottaccato su quella valutina eh tu mi fai sottare qualcos'altro la romena ti fa sottare nooo ti fa sottare ti fa sottare cove hai fatto Elia? ehm me l'ha staccato indemna straal a me con la calma il promozione tra bocchi pezza della burina 4.1 visto che fa gallo ho aperto tutti i vetri come hai perso i vetri? hai perso, lo persi per strada no te lo rifacciamo pagare è un trattore che ha mezz'ora di lavoro comunque ragazzi visto 516 a parte che va in salita fa un po' fatica comunque è un po' scomodo andare a falciare così secondo me la prossima volta farei prima a portarmi solo la falciatrice di filano ma ecco con le foreste ci sta? certo guarda un po' a sinistra si ma ma moccorate queste piante moccorate? eh si che? che ce le dobbia sumentare sotto la vigna per caputano? mh mettici le moccose devi fare il bosco metti più piante ma se le sumenti monovatri dove va? eh sarebbe da fare adesso tipo domani affittiamo una cosa cominciamo a piantare le piante rimboschimento fare un bello rimboschimento ma una parte eh? una parte si beh non tutto dov'è che sta con io vedi? si questa parte qui la faccia fare un bello bosco almeno per tutta la serie quando cominciamo a fare legna poi abbiamo la possibilità di avercela già pronta che questo mappo che fai? la devi spimpigliare? no eh si in teoria starebbe venendo Elia ma non si sa tra quanto arriverà dato che si è già girato 6 quarti di mappa Elia bollettino dove siamo? devi rubire la pressa? si no cioè prima lo spimpigliare ranghinatore quindi se me vedi mi immagri si ti vedo dove sei eh ma se me vedi come sto messo quello è il problema aspetta 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 fermati per carità staccato o pia? che stava fa? fammi vedere eh no staccato la zavora tracca che montagna che merda non trovo più zavora dai almeno non ho lavata si si adesso ti faccio una lavata di testa che te lo dico io altro che eh la zavora ma poi fa sacco l'alanghinatore chi lo porta? io non vorrei dire niente ma l'alanghinatore è in acqua il trattore è pure la zavora dietro no questo qui è un coso è un capio tutto in acqua è lì acqua non è che ma fammi capì eh ti faccio capire l'alanghinatore l'alanghinatore chi ce l'ha? c'era lo shop c'era lo shop ma che c'hai fatto? eh toccagli su te eh toccagli su te certo ah che pazzia che c'è qua ma è stato consoluto una affida via toh ok qui io capito c'è sta l'ufoso quindi non c'è il colgo più e baffanloi eh 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 sto andando sto andando ecco questa è una vita dentro qualcosa sta vedere questo è un baffanguro cosa hai fatto Simo? è stato lungo il cancello? eh no non preme no? vabbè pensavo che se chiudia dopo no? vabbè 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 che dè qui? questa ferrovia eh macchina vabbè 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 tu devi arrivare da me ci stai comprovendo vabbè vuoi che ti compro un navigatore ci sono 4.000 euro non ci compro ci vuole stavo ben da dentro con l'acqua c'ho la ferrovia con la calma adesso un momento perchè paura strada con la calma ma che c'è da fare cose? io passo a 50 un'ora mentre il paese guarda che poi si lamentano eh è stato spagnato strade, quello è bello eppure a ah io pure allora non so se lo sapete col tasto 9 della tastiera con la cosa che ha tanti tasti no è che un fume è fatto che una strana normale capito? no io ti dico vada ma adesso vado a passare qua e un fume e dai e qual è? lo vedi? guardami eh guardami tra poi ci vado dentro e lo vedi meglio 4% ah quello lì davanti te un attimo che sale il dono con la 6% ma non c'è me e anche me guardami guardami dimmudo assomigliere un giorno ma si con la calma sbattacetevi con l'estra da un po' tortuosa vado giù in casa faccio per me io sto facendo fare i salti mortali ma la faccio finare la faccio finare la faccio finare la faccio finare andò ah non andava allora ma poi sembra che ci sono boh foresta amazzonica non lo so io poi voglio vedere a fare legno a parte che è un bosco tanto pulito ci stanno così poche piante che non è che mi gusta tanto tutto questo coso che mi piace di più di sta mappa per strada sinceramente parlando chiaramente è una delle poche cose che mi piace adesso da incontro intorno alle strade insomma tutto tuttora la barata la città farci ce la faccia venire prima di domani prima che arriviamo a farlo ma ti spero iiii non è molto grande non mi sto il film finire lì cos'è che c'è ma che ne so oh fermeti campo 63 o dovevo ma no e calano ecco guarda ma da tutti io sono di quando la di cala e ci trova cala un regalo e si può passare un piccolo sarà tu passo io adesso e ormai ormai sono da famiglia che si capisce come 1 mamma mia come da scherzo no è ancora andata bene giusto allora in una non non la faccia facciamo progresso due 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 facciamo progresso facciamo progresso non c'è mai se metta calacare non è normale a quest'ora la connessione con comunque a te vi ringrazio tantissimo per la visione da n film via a tutto ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti